Allora, eravamo rimasti qui. Manovra, medici in fungo e 4.000 pronte di lasciare lavoro anticipato per evitare i maxi tagli agli assegni. Con la manovra dal 2024 i medici rischiano dal 5 al 25% della loro pensione e quindi, logicamente, chi può porta via il camice il prima possibile. Si rischia solo un abbandono massiccio del sistema sanitario nazionale, già da subito sindacato, medici, ospedalieri. Già, negli ospedali italiani c'era un buco di 15.000 sanitari, ora pare che con sti tagli se ne vadano via altri 4.000. Ma sì, che cazzo ce ne farei, con i pronti soccorsi privati, ma scherzi, andiamo da Dio, che se c'hai la carta di credito scarica, da Dio ci arrivi in un attimo, no? Ma i medici non erano degli eroi. Ve lo ricordate? A tutti voi, grazie, questi sono i manifesti della regione Lombardia durante il Covid, quando Fontana, Fontana, attenti all'alleguria, Fontana, che arriverà dopo, Fontana, diceva questo, no? Aveva capito che la sanità pubblica era fondamentale e ringraziava i medici, ecco. Noi in Italia, agli eroi generalmente riserviamo due trattamenti, o gli intestiamo una strada o gli tagliamo la pensione. E' anche per questo che ogni volta che qualcuno compie un atto di coraggio, subito dopo ai giornali dice, non sono un eroe, è per forza, povero che gli fotano i soldi, grazie al cazzo. Cioè, ma chi no, ma... Non l'ho salvato io, non lo so, si è autosalvato, ma non ti dico di no! Ma chi è che si è inventato questo sistema così perverso, no? Che ci ha portato a sradicare la sanità pubblica in favore di quella privata? Dico, ci sarà uno che è all'origine di tutto questo, no? Il modello Formigoni ha spalancato le porte ai privati. Eccolo lì, il Deus Ex Machina. Certo, poi la macchina gliel'hanno pignorata insieme ai conti correnti, ma non disperate, non disperate. Formigoni, tra cinque settimane sarò un uomo libero. Oh, sono contento io. Cioè, dopo cinque anni e dieci mesi, finalmente ha pagato il suo debito e adesso si sceglierà un lavoro, uno qualsiasi, venditore di giacche, che a lui piacevano, agenzia di viaggi, che a lui piacevano. Formigoni, mette dal suo ritorno in campo e le europee? Me lo chiedono in tanti. Ecco, si è liberato lui, ma non ci siamo liberati noi di lui. Ma scusate, cazzarola, ma uno già condannato per corruzione non dovrebbe smetterla, no? Ma chi cazzarola è che glielo chiede? Attento all'allegoria, hai visto Fontana che mi ritorna al Fontana? Attento il Fontana al Formigoni candidato, sarebbe un arricchimento per tutti. Ma l'arricchimento è per tutti? Ma per tutti chi? Perché cinque anni e dieci mesi fa l'arricchimento è stato solo per qualcuno. Certo, chi sono io per giudicarlo? E poi non è nemmeno colpa sua se ritorna. In fondo, cosa ci può fare? Glielo chiedono tutti. Mi fai vedere che glielo chiedono tutti. Formigoni, la gente per strada mi chiede i selfie di tornare. Ma scusate, qui siamo a Milano, no? Voi siete più o meno 500 persone, non so, tra l'altro paganti, vi ringrazio. Ma qualcuno di voi ha mai chiesto a Formigoni di tornare? Me li fai vedere? Cioè, no, dai, a parte gli scherzi, c'è qualcuno? Nessuno? Dai, vi vergognate, dite la verità. Nessuno? E allora, guardatevi Formigoni che parla, che fra poco ritorna. Guardate, guardate.